Ci sono sempre due scelte nella vita. Accettare le condizioni in cui viviamo o assumersi la responsabilità di cambiarle. A te la scelta. Non possiamo pretendere che le cose cambino se continuiamo a fare le stesse cose. Se qualcuno prima di te è riuscito in qualcosa che tu vuoi, chi sei tu per non riuscirci? Trova la forza dentro di te e alzati. Sai già vedere le tue capacità e i tuoi talenti. Usali! Ti piacerebbe stare bene ora? Essere te stesso ovunque e davanti a chiunque senza avere paura? Ti piacerebbe raggiungere i tuoi obiettivi con facilità senza svalutare ciò che stai facendo? Ti piacerebbe essere felice e sapere come fare per esserlo sempre? Rispondi di sì. Non ti ho sentito. Dillo ad alta voce e cambierai la tua vita. Dillo. Dillo. Dillo! Sei il creatore della tua realtà. Cosa stai aspettando essere felice? Il vero fallimento è rinunciare. Non rinunciare mai ai tuoi sogni, grandi o piccoli che siano. Continuo. Non fermarti. Fatti coraggio. Non piangere. A volte c'è chi come te non smette di combattere. Fatti forza. Apri la porta. Ancora una vittoria per te stesso. Ancora. Insisti anche se fa paura. Non crollare mai. Non distrarti dai tuoi obiettivi. Ancora una. Ancora una. Ancora una. Non c'è chi come te non smette di combattere. Non c'è chi come te non smette di combattere. Non c'è chi come te non smette di combattere. Non c'è chi come te non smette di combattere. Non c'è chi come te non smette di combattere. Non c'è chi come te non smette di combattere. Non c'è chi come te non smette di combattere. Non c'è chi come te non smette di combattere. Non c'è chi come te non smette di combattere. Non c'è chi come te non smette di combattere. Vuoi avere ciò che vuoi se sei disposto a liberarti della convinzione che tu non puoi averlo. Qualunque cosa vogliate fare, fatela ora. Grazie per la visione!